ragazzi qua due funghi meravigliosi oh ma come sei bello questo è da campione ma come sei bello vediamo il fratellino dove sei mamma mia che meraviglioso ragazzi ragazzi momento importantissimo vediamo un po' vedete questo bocchetto di foglie cominciamo apriamo è un oggetto molto di aiuto ragazzi la pulita ci sta facciamo fare una bella figura questo ragazzo mamma mia ragazzi cos'è cos'è ecco io ho anche che inventa l'aggettivo per questo oggetto ci vuole un nuovo oggettivo ci vuole un nuovo oggettivo che meraviglia ragazzi guardate che splendore guardate mamma mia che emozione ragazzi è bello è bellissimo vediamo questo uuuh mamma mia ragazzi anche questo mi sembra questo è proprio è proprio bello è elegante un porgino elegante ragazzi qua 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 mamma mia mamma mia mamma mia ecco avanti voi prego i commenti io mi fermo qua ad ammirare e aspettate usa un oggettivo bellissimo ecco questo è un porcino immenso è un commento che mi ha fatto in un video ha ragione un porcino immenso ho appena raccolto questo mi giro e oh vediamo cosa c'è vediamo qual è un po' d'oggettivo 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 vediamo qua vediamo se c'è abbastanza luce ecco qua che bello un po' d'oggettivo ma come sei bello sei bellissimo per me un po' d'oggettivo questo è un po' d'oggettivo sono bellissimo sono splendidi guardate mamma mia vediamo un po' questa miglia prendio molto ripido un po' d'oggettivo un po' d'oggettivo un altro questo lo mettiamo qua sta fermo lì eh questo cade mettiamolo qua bene ecco qua c'è questo qua ma come sono bellini questi qua ma come siete belli 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 guardiamo qua è un'altra meraviglia se raccogliere i polcini non ci si stanca mai 10 grammi mamma mia ma che bellino che sei il maciccio sono perfetti oggi ragazzi momento importante anche qua una meraviglia spettacolo che meraviglia io sono ma che lavoro che lavoro poi c'è un altro sopra molto bello andiamo a vedere ora qua guardate questo qua ma come sono lungo ecco trovarlo Ali non lo vedo più ah eccolo qua non ci credi c'è un altro qua sopra aiuto l'abbiamo visto adesso guardate la roba ma che meraviglia questo ragazzi ma che spettacolo l'abbiamo visto un metro incredibile e poi questo wow che meraviglia guardate 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 che è una meraviglia molto carina poi cerchiamo oh mamma mia questo guarda che forte molto bello molto bello e poi c'è anche un altro molto bello e poi c'è anche un altro e poi c'è anche un altro che roba che roba e questo com'è? fatti vedere fatti vedere che gambone ragazzi che gambone che gambone splendido splendido guardate che bel muretto questo è un signor muretto ma come sei bello come sei bellino ma come sei bello come sei bellino come sei bello come sei bello come sei bello come sei bello che miseria bello come sei bello bello ciao ciao vediamo qua ragazzi eh sì carino sì ragazzi come sei bello vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ti vedi bello vediamo qua eh eh bella è una signorina eh ma che signorina che gambone mamma mia ragazzi sono sempre più bianchi sono meravigliosi finiamo un po' è carina ragazzi ma fatti vedere ma fatti vedere ma come sei lì ma che amore sei bellissimo allora vediamo un po' questo è molto bello un tortellino e un altro frattello vediamo un po' vediamo un po' bello questo è la mantena ciala e questo invece questo è il penneale che bella ragazzi due piccoli mi sembra un po' sono meraviglioso guardiamo un po' guardiamo oh mamma mia ragazzi il gambo c'è 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 aiuto aiuto ma come sei bello mamma mia che bianco ragazzi perfetto perfetto un bianco perfetto perfetto buongiorno 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 siamo nel bosco delle fate un posto incantevole un po' 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 un po'